Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby, non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano in un bar. Ho 70 anni, vivo in Italia, sulle Dolomiti benoresi, che è precisamente il Coroio. Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. ken Bardia E Cardagione A chi o c le o o